Insieme alla consiglia Daviti abbiamo presentato un'interrogazione urgente rispetto alla riapertura del Dipartimento Materno-Infantile di Pesaro. Ovviamente ritengo che non debba essere assolutamente messa in discussione la riapertura già annunciata per il 5 dicembre, ma soprattutto si chiedono garanzie rispetto alla piena operatività, cioè è giusto riaprire il reparto ma è giusto che ci sia la piena operatività, ovvero che funzioni come funzionava prima del Covid. Il presidio di Pesaro è un presidio di eccellenza, un riferimento per tutto il territorio e mantenere chiuso Pesaro è veramente un grave errore. Inoltre voglio dire che è sbagliato sicuramente mettere in contrapposizione come è stato fatto in queste ultime settimane la città di Pesaro con le altre città della nostra provincia, anche perché la Regione ha già detto che ha deciso di mantenere aperte tutti i presidi ospedalieri, cioè quello di Pesaro, quello di Fano, quello di Urbino, quello di Pergola, e quindi è giusto che mantenga la piena funzionalità di tutti i reparti che questi ospedali hanno. Io ritengo che un eventuale rinvio della riapertura non possa far altro che mortificare le tante famiglie che da anni subiscono questo disagio, perché ovviamente è venuto meno uno dei servizi di eccellenza che il nostro territorio, l'ospedale di Pesaro, riusciva a dare, ma soprattutto un reparto che aveva un bacino di utenza che andava al di là di Pesaro perché era un riferimento sicuramente per tutto il territorio provinciale e che evitava anche la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna. A tutt'oggi e se ad esempio ci sono delle complicazioni durante il parto nell'ospedale di Fano, sia le mamme che ovviamente il bambino vengono portati all'ospedale di Pesaro perché l'ospedale di Pesaro è in grado comunque di dare delle risposte multidisciplinari, essendoci la rete dell'emergenza urgenza, in particolare il reparto di chirurgia, urologia, emodinamica, il centro trasfusionale, servizi che a Fano non ci sono e quindi Pesaro è un riferimento a livello provinciale, non solo per quanto riguarda dei casi magari particolari. E devo dire che mi stupisci che sia proprio chi oggi guida il reparto dichiarare che l'ospedale di Pesaro e di Fano sono in grado di fornire le stesse prestazioni. Ovviamente io per quanto mi riguarda devono rimanere aperti tutti i presidi, quindi sia quello di Pesaro, sia quello di Fano, che quello di Urbino, anche perché nella strategia che la regione ha in qualche modo portato avanti, prevede appunto il mantenimento di tutti i presidi, di tutti i servizi. Ricordo che da quando il reparto di Pesaro è stato chiuso c'è stato anche un aumento del 20% della mobilità passiva, cioè comunque molte famiglie, molte mamme decidono di andare a partorire in Emilia Romagna, questo provoca dei costi, aumento dei costi della mobilità passiva e quindi sarebbe veramente assurdo non riaprire il reparto di Pesaro, ma soprattutto non metterlo nelle condizioni di essere completamente funzionale anche.